Per questo carnevale 2019 oggi pasta a china con prodotti locali calabresi e nella fattispecie di Cropalati Provincia di Cosenza. Troverete la ricetta sia nel mio libro di tradizioni locali calabresi e sia anche sulla video ricetta che sarà pubblicata entro qualche giorno. Vi darò notifica quando il video sarà pronto. Un piatto molto interessante che si può preparare in qualsiasi occasione di festa non è necessario per forza carnevale ma anche a Pasqua si può fare anche a Natale quando volete voi. Un piatto sostanzioso anche con la salsiccia piccante calabrese avviciniamo il tutto con un bel bicchiere di vino diciamo nero di tipo magliocco molto molto come si dice alcolico e un vino molto strutturato in quanto l'uva era veramente a livello migrante e maturazionico. Alla prossima occasione di Acropalati Provincia di Cosenza con le tradizioni locali da parte di del Cosenza con la Posa, Univine, Ingexpert. Grazie.